Una giornata di informazione, sensibilizzazione, formazione e divulgazione di buone pratiche riguardanti il verde urbano. Alberi in città è un progetto del Comitato Verde Santa Rosa di Lecce, coorganizzato con l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Lecce e con l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Lecce. L'iniziativa è sostenuta da Biopuglia, Servizi a tutela dell'ambiente, e si avvale del patrocino del Comune di Lecce, Provincia di Lecce, Regione Puglie e Università del Salento. Il convegno è stato concepito per offrire a operatori del settore, tecnici, professionisti, ricercatori, studenti e liberi cittadini, l'opportunità di sensibilizzarsi ad un modello contemporaneo di paesaggio urbano, contribuendo ad aumentare la qualità della vita nelle città. Ciò attraverso la discussione di esperienze e visioni che affrontino la questione da prospettive differenti e la condivisione delle buone pratiche per la cura e la valorizzazione delle alberature urbane e periurbane. L'idea di un convegno sul tema degli alberi è maturata dopo anni di pensiero e azioni per sensibilizzare al verde bene comune e spingere i nostri concittadini a iniziare a considerare questo patrimonio e gli alberi nella fattispecie come dei vicini di casa, così come ha dichiarato Maria Cucuracchi, presidente del Comitato Verde Santa Rosa, esseri senzienti che condividono con noi una vita in città e caratterizzano la nostra stessa identità di esseri umani.